Ah questo è di Sbortus Fa il bulletto in Corea e se ne apente immediatamente Mi sa che questo stupido l'ho visto Sì questo deficiente l'ho già visto Mi sembra di aver visto le clip su Twitter mesi fa Un altro deficiente A proposito degli streamer che fanno casino Che sono ignoranti Che sono delle capre maleducate Questo è uno di quelli Essi fanno soldi, fanno visualizzazioni Magari diventano pure famose e importanti In qualche modo Certo Si notano subito quelli veramente da eliminare Diciamo dai social Poi ci sono quelli che riescono a camuffare bene Alla loro ignoranza Lui è uno di quelli che noti subito che è un deficiente A proposito di Corea Piccola pose per far riprendere il cervello Con trailer appena uscito di Squid Game 2 Sicuramente di Squid Game non me ne frega niente Adesso Dopo Guardiamo Ma sta versando il ramen? O comunque quello che è? Sul tavolo? Dio mio Raga vorrei Non voglio dirvi quello che gli farei in questo preciso istante Ma lo dirò Prenderei la sua testa di cazzo E la sbatterei sul tavolo In mezzo a questi spaghetti Nudo Lo scusiamo Scusate E gli farei questo sul tavolo Poi lo prenderei Purtroppo i capelli non ne ha Quindi lo prenderei dal suo giubbino di merda Lo prenderei a calci nel culo E lo sbatterei fuori E li lancerai addosso Anche la prima cosa che vedo Magari con questa bottiglia di vetro Sperando sia di vetro Se non è abbastanza pesante Li lancio la prima cosa che c'è lì A destra Non so cosa siano quelle cose di plastica E vorrei capire perché ci sono le bandiere dalla Lituania qui Non ho capito E le prenderei anche la bandiera lituana E le afficherai nel culo Forse è troppo Forse questo è troppo Scusate Ma è quello che farei Ma si può essere così? No dimmi che Dimmi che Immaginate di pestare una gomma Masticata da un barbone Che ha vomito Sbortus è malato Spero tu guarisca presto Sbortus Anch'io ero una settimana fa Con questa voce nasale C'è dai capelli Giusto non si vedevano E soltanto c'è la fronte Che è veramente alta Non si sa quanto Andiamo Amitato da poco E di portarla in giro Sotto la vostra suola delle scarpe Per terreni melmosi Per diversi chilometri Pestando occasionalmente Due o tre prodotti Di cani randaggi Con problemi di stomaco A fine giornata Con mascherina Guanti Di disinfettante Un bastone di almeno 40 cm Staccate quella gomma E fissatela Immaginate di stabilire Di valutare la dignità Di questo oggetto Bene Io vi assicuro Che a prescindere Dal vostro voto Il valore Dell'individuo Di cui parleremo oggi Sarà comunque Di molto inferiore Allora Chi è questo essere? Lui è Johnny Somali I veterani del canale L'avranno già sentito Perché Johnny è Quello streamer Che è andato a fare Delle live in Giappone Nelle quali ripeteva In loop Hiroshima e Nagasaki In mezzo No Credo di averlo visto Possibile Ma non mi ricordo Io vi ho detto Che questo ragazzo L'ho già visto Ma non mi ricordo Se l'ho visto Ad Asbordus Su Twitter Sicuro l'ho visto Delle clip Ma non so se ho visto Questo video Però ho visto Le clip di questo video Cioè Riguardo a questo argomento Di quello che ha fatto Non penso di merda Non penso di merda Quindi è una delle tragedie Più grandi Della storia del Giappone Per pochi spicci Che gli venivano donati In live Dopo aver disturbato Per mesi La quiete pubblica Ed essere stato Anche arrestato Un paio di volte Johnny si è spostato E adesso si trova In Corea del Sud C'è una cosa Che accomuna molto Questi posti Ovvero La gente È più pacata È più timida Più chiusa Chiaramente Educata Non rompe il cazzo A nessuno C'è rispetto Ovunque Gente normale Certo Qualche testa di cazzo Ci sarà sempre Ovunque Ma nel loro Essere testa di cazzo Poi arriva ovviamente Uno dall'altra parte Del mondo E guarda cosa fa Stupido Più di noi Ma domanda Perché non rimane Da dove è venuto A far casino Non lo so È africano In base al cognome Che ha O E vive Magari in America Boh Non lo so Perché non rimane Nel suo posto Far casino Probabilmente Le prenderebbe Della mattina Alla sera E verrebbe Imprigionata Da qualche parte Gli occidentali E quindi Tu turista Che vai a visitare Un posto Dovresti Adeguarti C'era un tipo Che rompeva come questo Anche se tui citare Non ricordo il nome Né che fine abbia fatto Forse ha capito Piuttosto giovane Capelli corti Se non erro Marroncino Di capelli Spesso andava in giro A Milano A Milano Se non sbaglio Dona lì Ah no Non lo so Boh Non lo so Non credo si chiamasse così Un altro Mi sa che però Non fa più tui citare Probabilmente è stato bannato Boh Più minimo Devi rispettare Per meritarti Di essere rispettato Secondo me Johnny Non è di questo avviso Secondo me Il fatto che ci sia Tanta gente timida e chiusa È esattamente quel che Johnny cerca Ed è questo il motivo Per il quale Targetta sempre questi paesi Perché sa Che non potrebbe Mai fare il gradasso Nel suo paese d'origine Perché si troverebbe davanti Gente molto più portata A reagire Anche in modo Abbastanza brutto Quindi a conti fatti Questo rende Johnny Somali Ovviamente un bullo Perché se la prende Con chi Per cultura Per imprinting O per carattere Non reagisce Fatemi comunque ringraziare Al volo gli abbonati Se volete sostenete il progetto Abbonandovi anche voi Grazie mille A chi è abbonato E a chi lo farà in futuro Allora per chi non sapesse In Corea e Giappone Più o meno Credo anche in Giappone Sì Esistono Queste zone Questi negozietti Piccolini Dove tu ti compri I noodles O qualcos'altro E te le puoi cucinare Te le puoi scaldare Non so come funziona Ci sono delle zone Dove ti puoi scaldare Il cibo E mangiartelo così Vicino all'uscita In pace ovviamente Nel rispetto Portando rispetto Alle altre persone Che ci sono In quel luogo Non è che sei a casa tua Comunque Tipo mini market Sì ma Tu ecco guarda una cosa E te la puoi mangiare lì Un piccolo tavolo C'è esatto Magari ce ne sono due Dipende Ma comunque è una zona Dove mangi veloce E te ne vai Sì sì Fish mandalo Ogni tanto mi capita Una tipa che fa queste cose Cioè prende le cose Le cucine Le mangia lì Sì sì È una roba normale Ci sono anche altri streamer Io che seguo Che sono streamer Che fanno le live EARL Cioè che girano Un po' La parte asiatica Del mondo L'Asia E vedo queste cose Vedo anche come sono Cosa fanno Dove vanno Un po' Mi piace vedere le live così Perché sì Letteralmente Dall'altra parte del mondo E vedi In maniera naturale Com'è Com'è il posto A me piacciono Quelle cose Quelle live Aspè Perché vai a conoscere posti Che magari dal vivo Probabilmente non vedrai mai Non lo so Guardiamo dopo Anzi c'entra con l'argomento adesso Vabbè guardiamo dopo Ehm Vabbè Non so cos'altro Volevo dire guardiamo Brutto da dire Ma ogni tanto la violenza serve È veramente brutto da dire Ma sono d'accordo Certe volte Serve Serve dare un paio di schiaffi Alle persone Perché secondo me è l'unico modo Per farle riprendere O farle capire le cose No alla violenza Ma certe volte due schiaffi Ti faranno del bene Secondo me Forse Però in molti casi Però secondo me è l'unico modo Anche se deve essere Anche se deve essere l'ultima cosa Da fare A provare Però È così Perché Perché se no Secondo me è una cosa un po' Da scimmia Si torna un po' Nel passato No? Da dove proveniamo Da dove ci siamo evoluti Secondo me si arriva veramente al limite Alla parte finale Dell'essere umano Cioè è l'ultima cosa che provi Per Sai Arrivare al dunque Tolgo tag educativo? Noi secondo me è comunque educativo È quello che sto dicendo Perché non lo sta dicendo sia la violenza Sto dicendo solo in alcuni casi È tipo l'ultima sosta Non so a cosa ne pensate voi Però Certe volte Due schiaffi Li devi dare Secondo me Se no probabilmente Le prenderai tu In qualche modo Se mi prendono Al lavoro nuovo Andrò in Giappone Diverse volte Vi farò recensioni In negozetti di cibo Che figo Sai quella è l'unica cosa Che davvero fa cambiare le persone? La paura Esatto Bravissimo E se tu ti trovi Di fronte a una persona Che è disposta A prenderti a schiaffi Che non ha paura Della tua ignoranza Stupidità Maleducazione E ti tiene testa Anche in questo caso Pronta ad affrontarti A sporcarsi le mani Probabilmente ti viene la paura Sì E quindi ti Ti switcha la cosa In testa In certi casi Le parole Non arrivano a destinazione Vero? È assolutamente vero Due sono pochi? Forse nel suo caso Sì Andiamo avanti Forse è alcol quello? Non avevo capito Cosa sta succedendo Forse non puoi bere qui? Ok Per chi non lo sapesse Queste sue live Funzionano così Lui va in mezzo alla gente Solitamente cerca Se mi dovessi beccare Una testa di cazzo Dal vivo così Raga Io veramente Mi rompo la mano Però gli do un pugno in faccia Sa che? Ah forse Cioè io probabilmente Rischio di rompermi la mano Ma gli do un cazzo di pugno In faccia A questo deficiente A qualsiasi deficiente Mi capiti Di fronte Che fa così con me Io mi sporco le mani E me la rompo Forse anche Perché tirare un pugno in faccia L'osso contro osso Ti fai male Però L'erudato C'è un'altra tecnica Che conosco Dove non ti rompi la mano Probabilmente Perché non fai L'osso contro osso Quindi Non so In quel momento Cosa potrei fare Come mi schizza il cervello Cosa mi viene in mente Cioè cosa mi viene in mente Di fare Però vi giuro Ci sono tante persone Che testano la mia pazienza Ogni giorno Ma per fortuna Nel minimo Perché ovviamente Il lavoro che faccio io Sono a contatto con la gente Per nove ore di fila Otto Ok Quasi ogni giorno Quindi Ci sono Raramente Ma ci sono persone Che si permettono Di trattarti Di merda Esistono Purtroppo Ci sono sempre Perché tu Sei Sei lì Per servire A quella persona Quindi questa persona Quando ti si trova Davanti a te È come se si sentisse Superiore Perché il cliente È sempre ragione Con grandissimo Cazzo Nel mio caso Io non ho mai avuto Paura di perdere Un posto di lavoro Non ho mai avuto Paura di mandare Qualcuno A fanculo Nel momento in cui Mi ritrovo Dal vivo Mancare di rispetto Io in qualche modo Ti demolisco In maniera gentile In maniera carina O in maniera Se devo Aggressiva Ma io Quando vedo Queste cose Dal vivo Io divento Una bestia Io se non do De lei A qualcuno Mi sento A disagio Questo è il fatto Che tu sia stato Abituato A portare rispetto Di cose ti occupi Ti seguo da poco Non lo so Lavoro in un negozio Dove vendiamo Vestiti Costosi Di marca Come potrei In un negozio Di vestiti Però di un certo livello Il cliente Ha sempre ragione Fino ad un certo punto Esatto Il problema È anche quando Sono nel torto Perché sono stupidi Loro Pretendono Di aver ragione E se tu glielo spieghi Sei una persona Cattiva Perché gli fai capire Che ha sbagliato E Ti meriti Di ricevere Della merda Addosso Soltanto perché L'hai fatto sentire Stupida lui Perché ha sbagliato Cioè capi È Tutto molto complicato Sono tutte quelle Meccanismi strani Di persone Che Che vengono fuori Quando hai veramente Cioè io Durante il weekend In un giorno Probabilmente Soprattutto durante il weekend In questo periodo Entrano più di mille persone In negozio Ovviamente Non con tutte le mille persone Hai a che fare O parlare Non è che discuti Con tutti O Li saluti tutti Perché a molti Non li caghi neanche Però Cioè pensate Quanto devi essere forte Psicologicamente Per avere a che fare Con così tante persone Ogni giorno Vabbè non ogni giorno Però nel weekend Facciamo Ok È un casino Sì E quindi Ovviamente Su mille persone Non sempre Però ci sarà Almeno a testa di cazzo Che si crede di essere Qualcuno Anche se non è nessuno O qualche stronzo Qualche deficiente Perché ovviamente Ci sono le persone Così È molto difficile Il lavoro a contatto Con la gente Devi farli capire Le cose Senza farli sentire Stupide Anche se sono Delle pietre Esatto Quindi devi Far finta Di essere stupido Un po' anche tu Ma allo stesso Tempo gentile Ma allo stesso tempo Lì pronto A risolvere Il suo problema Ma Devi essere Cento volte Più furbo Della persona Per Cioè devi sapere Deve essere furbo In quella situazione Come dici tu Non è per niente semplice Andiamo avanti Di creare content Ma la sua definizione Di content È dare fastidio A chi si sta facendo Gli affari suoi O peggio A chi lavora Nel bar Dove disgraziatamente Lui si è seduto E in genere Questo format Non è completo Senza una cassa bluetooth Che riproduce Ad altissimo volume Delle canzoni Dei suoni Delle frasi A proposito Della cassa bluetooth Che fa casino L'altro giorno È entrato in negozio Uno Secondo me aveva Almeno 40 anni Raga Piuttosto vestito Bene Sembrava una persona normale Non che sia vestito Con un certo stile Ma vestito Diciamo bene Jeans Un giubbino Semipelle Tipo Una roba del genere E ci aveva Il telefono Si è messo in mezzo Al negozio Al massimo volume Che stavo guardando Dei video su youtube Credo qualcosa del genere Stavo lì a scegliersi il video Ne ha scelto uno Ha messo il volume Al massimo Si è messo il telefono In tasca Ha fatto avanti E indietro Girando un po' Il negozio Con il volume Al massimo Che urlava Il telefono E se ne è andato Io e le mie colleghe Ci guardavamo così Ma questo qui Cioè io non capisco Se lo fanno apposta Le persone così Sono veramente stupide Non si rendono conto Magari sono problematiche Magari hanno qualcosa Che non va al cervello E quindi Dici ok Non stai bene Se una persona Con qualche disturbo Va bene Ma secondo me Cioè L'unica spiegazione Perché se no Se non sei disturbato C'è qualcosa che Non C'è qualcosa che non va Che cazzo fai Persone particolari Sì Boh In seguito Ad una donazione E la cosa triste È che sta facendo Tutto questo Indovinate per quanti spettatori 10.000 5.000 1.000 No 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 Sta facendo tutto questo Per 200 persone Disturba la quiete pubblica Infrange la legge Disturba poveri anziani Come quella Sono comunque tante 200 persone Anzi La dice lunga Se ha soltanto 200 persone Facendo Così tanto casino Cioè in teoria Dovrebbe attirare Molta più attenzione Ma la gente Si rende conto Che sia un deficiente E non merita La views Nel video che avete visto Che magari Lavorano 8-10 ore al giorno Per mantenere La loro attività Per 200 spettatori E attenzione Non ci sarebbero state Giustificazioni Neanche se fossero stati 200.000 Ok Ma il punto è che sta Quotidianamente Disturbando il prossimo E rischiando l'arresto Anzi Un paio di volte È effettivamente Finito dentro Per una somma di denaro Davvero Irrisoria Che avrebbe potuto Ottenere Con un sacco Di altri lavori Che però Sarebbero stati Socialmente utili Poi vabbè Sorvoliamo Sul sono nero Eh sì E quindi Lo vedo Non penso Cambi nulla Uno scarabeo Stercorario Ha comunque Molta più utilità Di te Se pensate Che abbia esagerato Voi non avete Ancora visto nulla Adesso Vi faccio vedere Il continuo Di ciò Error Leggiamo il messaggio Di Error Ci sono persone Che pensano Di vivere Da sole al mondo Finché non vengono Prese a schiaffi Così si svegliano E si rendono conto Di non essere Soltanto loro Sulla faccia della terra Vedi che due schiaffi Sono terapeutici Ti risvegliano No alla violenza Ma a volte Serve la violenza Questa scena Mi triggera tantissimo Mi dava veramente fastidio A me viene da dire Solo una cosa Qual è il target Chi davanti a video simili Si intrattiene E ride Anziché pensare Che questo tizio Sta solo rendendo Più difficile La vita di un'anziana Per poi Offenderla Tra l'altro Dicendo Sta zitta cinese Boh Ma secondo me Al di là Dell'affronta ai singoli La clip più abominevole Secondo me è un'altra Che ora vi farò vedere Perché questo tizio È andato ovviamente Ad offendere Il paese che lo ospita Su tanti livelli E il livello più basso È il seguente Allora cosa succede Allora cosa succede qui Questa statua È il Comfort Woman Memorial Ragazzi qui Ragazzi qui Mi sa che Due schiaffi Non bastano No eh Cosa devi fare A questa persona Per farla riprendere Cosa deve subire Non lo so È la giusta punizione Per la persona Di questo tipo Non bastano Veramente Due schiaffi Di Seoul È un monumento Dedicato alla memoria Delle donne di conforto Un eufemismo Chiaramente Per indicare Le donne Principalmente coreane Costrette a Confortare L'esercito giapponese Capite bene come Durante la seconda guerra mondiale Queste donne furono Infatti Costrette A confortare Contro la propria volontà Ripetutamente E sistematicamente In quello che è considerato Uno dei crimini di guerra Più gravi Commessi dal Giappone Durante l'occupazione Coloniale Della Corea Questa in particolare Che abbiamo visto È la statua Della ragazza in attesa È una scultura Di bronzo Che raffigura Una giovane ragazza coreana Seduta Su una sedia La statua Simboleggia le vittime Il loro dolore E il vuoto Accanto a lei Rappresenta L'assenza Delle persone Che sono scomparse O non hanno mai Avuto giustizia Un dettaglio Tra l'altro Particolarmente significativo È l'ombra Della bambina Proiettata a terra Che in realtà È l'ombra Di una donna anziana Rappresentando quindi Il trascorrere Del tempo È il trauma Che ha segnato L'intera vita Delle sopravvissute Nulla a che fare Con le microaggressioni Che vediamo Nelle pagine Instagram Come Frida Insomma E quindi Johnny È andato davanti A questa statua Giustamente Con del lubrificante E si è messo a dire Ora faccio come PDD Lasciamo decantare un po' Il problema È che ora Questo essere Si è spostato Su Kik Che è una piattaforma Che praticamente Non banna O lo fa pochino No Dove Quelli che finiscono Su Kik Sono letteralmente Gli scarti umani Scusate ma è vero Cioè finisci Come se fosse Come la discarica Dei social I simo Sono nei casi Incredibilmente estremi Non ha praticamente regole Quindi ci troviamo davanti A qualcosa di Forse Inestirpabile Questa persona Continuerà A fare Quel che sta facendo Senza alcun Problema Continuerà ad avere Come target Questi posti Dove la gente È molto riservata E timida Ovviamente Da buon bulletto Seleziona accuratamente Anziani Per trattarli male Scusate Ma tanto sappiamo Che un giorno Si beccherà La persona sbagliata Lo sappiamo Succederà questo Oppure se mi ricordo Di avere una clip simile Ragazze Sole E timide Per fare commenti Inopportuni O essere incredibilmente Invadente Urlando tantissime Inseguendole E comunque Questi streamer Così Rovinano tantissimo Questi paesi Nel senso Gli streamer Sono visti Molto male In Corea E credo anche In Giappone Forse più in Corea Perché ci sono Streamer Che rovinano Tutto quanto Persone come lui Quindi Spesso Magari Non li fanno Entrare da qualche parte O non vogliono Le riprese Proprio perché Rovinano tutto Questi deficienti Chi che in Corea Dal sud Si vede O è scurato Non lo so Ma so che Se non erro Twitch è stato Bannato in Corea Dal sud Se non sbaglio Poco tempo fa Però almeno Anche questa volta Questo tizio È finito in manette E mi fa ridere Che continui a dire Sono famoso Sono famoso Mentre ammanettato Non è vero Ti seguono in Duecento Ma poi Famoso dovrebbe Se sono Questa scusa Dovrebbe Significare qualcosa Io non ho mai capito Quando le persone Fanno così Cioè Sono famoso E quindi Tu non sai Chi sono io Chi cazzo sei E quindi Anche se sei Qualcuno di importante E quindi Buon Halloween Cioè Per favore Per un attimo Cerca di prendere atto Di cosa stai facendo E per quante persone Lo stai facendo Per favore Renditene conto Certo Il problema di fondo È che una volta fuori Tornerà esattamente A far ciò che sta facendo E lo so perché È già successo Ma secondo me Ogni giorno Nel quale Johnny Somali È dietro le sbarre Intanto è un giorno di pace Magari però Così facendo Interrompendo la costanza Nelle sue live Perderà pubblico Dato che pian piano Sta calando di spettatori E io sono solo che è felice Perché avrà Sempre meno incentivi Per comportarsi così Già ne ha pochi Però magari Con abbastanza live simili Che lo fanno finire Magari lo fa anche Con cinque spettatori Cioè alla fine Non sappiamo Non è prega niente A questo cosa Questo stato Finalmente anche Kick tra l'altro Potrebbe prendere Provvedimenti Chi lo sa Probabilmente no Però la soluzione Al problema In questo caso È aspettare Che perda anche Quelle duecento persone Che a malapena Lo supportano economicamente Questa ovviamente È la soluzione pacifica Perché so che Targhetta sempre Gli indifesi Ciò però Non ha zero Le probabilità Che possa trovarsi davanti La persona sbagliata In una giornata No A sto punto Meglio per la sua incolumità Che fallisca prima il canale Però mi rendo conto Che per tutto ciò Che ha fatto C'è molta gente Che probabilmente Non sceglierebbe L'opzione pacifica Insomma Vi ho appena descritto La faccia peggiore Di internet Gente che disturba Il prossimo Per pochi spicci In Italia Per fortuna Il fenomeno è Meno preponderante Ma ancora esiste L'unica Secondo me È rendere questo format Il meno conveniente Possibile Per chi lo porta Questo è quello Che ha fatto Diciamo fallire Molti canali IRL O comunque Ha fatto cambiare format A questi canali qui Perché anche in Italia Avevamo molto Questo problema Di gente che andava A disturbare il prossimo E faceva cacciare E si faceva cacciare Dei locali Che però nel frattempo Perdevano clientela Perché questa gente Comunque causa disagio Quindi la soluzione Come detto È rendere questo format Il meno conveniente Possibile Per chi lo porta Ad esempio Mediante delle segnalazioni A meno che Non si spostino su Kik A streamare Ma lì Sarai seguito Da molte meno persone A prescindere Perché per fortuna È anche un social Molto più di nicchia E magari non avrai Seri incentivi economici Per continuare Detto questo ragazzi Io vi do appuntamento Al prossimo video E so che è difficile Dopo ciò che vi ho raccontato Ma statemi bene Grazie Sbortus Un bel video come sempre E mi ha fatto incazzare Cioè le persone così Le detesto E sono Vabbè ma abbiamo detto Tutto quanto credo Ormai non c'è nient'altro Da dire Ma Una cosa veloce Possiamo leggere i commenti Sono il personaggio giocabile Al prossimo gioco Ubisoft Sicuro È il tipo di tizio Che se gli dicessi qualcosa Ti darebbe delle razziste E molti liberali Darebbero pure ragione Io sono soprattutto Con una ragazza coreana E ne conosco Un numero considerevole Vi assicuro Che si incazzano Tanto quanto noi E lo dimostrano Passando molto prima Dalle parole ai fatti Se sembrano timide Solo perché sono Estremamente educati E rispettosi del prossimo Un titolo un po' clicky bait Perché non se ne è pentito Alla fine mi sa Fa il buletto in Correa Se ne pente immediatamente Vabbè forse Intende Quando viene arrestato Sì vabbè Magari un pochino clicky bait Nel senso che Effettivamente non si è pentito Perché è ancora Piede libero Questo essere Però Ho capito cosa intendi Va bene Va bene Sorvoliamo Andiamo avanti Ma Siamo arrivati Ah giusto Devo vedere questo Video I can hear it That shit's funny That shit's funny Damn actually Che schiaffo Dieci su dieci Ma Questo qui Di preciso Che cosa intendeva fare Sono tipo i chihuahua Che abbaiono Ti rompono il cazzo Finché Non dico cosa Cioè si mettono lì Finché non arriva un cane Più grosso Non ho capito Cosa stava cercando Di fare Questo E come è stato bravo Lui a metterlo a posto In tre Secondi L'ha avvisato Dammi il cappello Dammi il cappello Questo no Gli da uno schiaffo Gliel'ha ridato subito Possiamo rivederlo? Ma chi sono Sti due coglionazzi E lui perché Si permette di fare Una roba del genere Cosa che succede Sì è vero E fa ridere che sono ancora lì Ma poi lo fa Ma non uno triplo di te No cioè che cosa voleva Cosa voleva ottenere Sì Schiaffo educatore Ecco I casi in cui serve Dare schiaffi Schiaffi Effettivi a partire Dall'ottantamila Prima della nascita Di Gesù Cristo Questo non era uno schiaffo Era un reset Della Factory reset Back to a decent human being Ho 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 ho